Amici 14. L'amore è di scena, e per un pomeriggio sostituisce note musicali e passi di danza, anche se i protagonisti sono due ballerini. Virginia Squadra Blu e Christian Squadra Bianca si sono finalmente incontrati, dopo la puntata di sabato scorso in cui Maria De Filippi ha mostrato un filmato in cui la ballerina ammetteva tutto il suo amore per l'ex fidanzato. Christian si è sfogato con Emma. Inizialmente ha deciso di interrompere ogni comunicazione per dedicarsi al ballo, ma poi tornato in casetta ci ha riflettuto ed ha deciso di incontrare la sua ex fidanzata. Christian e Virginia stavano insieme da tre anni. La storia si è interrotta quando la ballerina lo ha tradito con Gabriele, anche lui ex allievo di Amici 14. Virginia però si è pentita e ha chiesto il perdono del suo fidanzato, il quale non sembrava aver ancora digerito le malefatte della ragazza. Dopo l'incontro di ieri per Virginia sembra essersi aperto qualche spiraglio. Abbracci e lacrime sono stati i protagonisti del colloquio. Entrambi ancora visibilmente innamorati, hanno cercato di trovare un punto d'accordo. Mentre Virginia voleva far pace con il suo ex, ammettendo di amarlo ancora, Christian è sembrato fermo nella decisione di volersi dedicare a se stesso pensando al suo percorso all'interno della scuola. Gli occhi della ballerina però non hanno lasciato indifferente il ragazzo. L'allievo dei Bianchi ha ammesso di leggere ogni giorno una lettera che lei le ha scritto prima di entrare ognuno nelle rispettive casette del serale e poi ha aggiunto che ha bisogno di tempo. Virginia ha fatto le sue dichiarazioni d'amore tra le lacrime e mentre il suo ex fidanzato le diceva che diventa sempre più bella, ha voluto la certezza che fuori dalla scuola si rivedranno ancora. Christian, che si è scusato per la durezza mostrata in puntata giustificandola con la sofferenza che la storia gli provoca, ha accettato. Sebbene abbia rifiutato un bacio, il suo atteggiamento non è stato mascherato. È evidente che c'è ancora un sentimento forte. Tempo al tempo, ripete Christian andando via, ma pare che fuori dalla scuola la love story avrà un seguito, anche per la frase Sibillina non mi annoio, pronunciata dal ballerino alla sua ex suona come un tiano detto in un linguaggio privato.